È incredibile come basti semplicemente aspettare per vedere anche le teorie del complotto più estreme diventare realtà. Tipo i cappelli di carta stagnola che erano un simbolo iconico usato per prendere in giro i complottisti che temevano il controllo o la lettura della mente. Che assurdità, in realtà non c'è alcun piano per controllare o leggere la nostra mente, vero? Iniziamo vedendo alcuni estratti di una recente conferenza del World Economic Forum di Davos chiamata Pronti alla trasparenza cerebrale? Il video originale dura circa 30 minuti e vi invito a vederlo. La relatrice è la professoressa Nita Farahani che nel 2010 era stata nominata nella commissione di bioetica del governo Obama. La presentazione inizia con un'animazione che rappresenta un ipotetico futuro in cui le persone avranno dei dispositivi neurali che gli permetteranno di controllare con il pensiero i loro dispositivi ma anche di essere loro stessi controllati e monitorati dall'azienda per cui lavorano. Ricevendo dei bonus quando le loro metriche cerebrali indicano che sono stati concentrati sul lavoro oppure ammonimenti quando si distraggono. Ma non solo, viene mostrato anche come i dati neurali potrebbero essere usati dalle autorità per svolgere delle indagini. Solo fantasie? Beh, considerato che già adesso è normalizzato il monitoraggio dei nostri dati digitali con sistemi sempre più invasivi come la proposta del chat controller di cui vi ho già parlato in un video passato è solo una questione di tempo prima che il contenuto del nostro cervello sarà considerato allo stesso modo del contenuto dei nostri dispositivi. Perché se passerà l'idea di personaggi come Yuval Noah Harari di considerare l'essere umano come niente più che una macchina biologica che può essere hackerata, allora anche il cervello e le parti in cui memorizziamo i ricordi saranno considerati come niente più che un hard disk. Quindi, in un futuro distopico dominato dal transumanesimo, potrà lo Stato o delle multinazionali richiedere o pretendere l'accesso a parte di esso? Pensate che quanto visto finora sia solo fantascienza? Il discorso di Farahani inizia così E ha ragione. I ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone hanno recentemente utilizzato l'intelligenza artificiale per ricostruire immagini mostrate ai partecipanti dello studio usando le scansioni della loro attività cerebrale E siamo solo agli inizi Farahani continua poi la presentazione citando un tragico incidente avvenuto nel 2009 in Oklahoma quando un camionista si addormentò alla guida causando 10 morti Il servizio non ha scopo il suo scopo fino al fatto di un accident che era disastroso per il compagno e costo molti livesi Ma potrebbe sapere molto più più Potrebbe potrebbe detectare se il trucker potrebbe entrare in i primi stagioni di micro-sleep E potrebbe potrebbe fatto so con un simple hat A simple wearable hat che ha imbede di sensore di sensore che potrebbe prendere brainwave activity E noi come società dovremmo volerlo, dovremmo volere tecnologie che ci permettano di essere più sicuri. Parole molto belle ma c'è un dettaglio non pervenuto. Il camionista di quell'incidente aveva 76 anni e quel giorno stava lavorando da 10 ore in una giornata di caldo foso. Forse mi farebbe sentire più sicuro vivere in una società in cui a 76 anni posso sperare di avere una pensione dignitosa, ma immagino che parlare di questo al World Economic Forum sia meno figo che presentare un cappellino da cyber schiavo con elettrodi e sensori. Forse vi starete chiedendo perché qualcuno dovrebbe accettare di lavorare a queste condizioni costantemente monitorato. La risposta? Perché sarà normalizzato e non avrete scelta. Più avanti è Farani stessa a riconoscere che l'80% delle aziende già utilizza Bossware, ovvero software di monitoraggio per sorvegliare i propri dipendenti. 9 dipendenti su 10 ammettono di sprecare almeno un po' di tempo lavoro ogni giorno. Oh no! Probabilmente perché 9 dipendenti su 10 non sono macchine, ma forse è proprio questo il problema, visto che la soluzione proposta è letteralmente questo. Oggettivamente ribrandizzare un pungolo da bestiame come una sciarpa hipster per farti concentrare al lavoro è qualcosa di geniale. Grazie World Economic Forum. Ed è un perfetto esempio di cosa è la finestra di Overton. Decenni fa come avreste reagito se un viaggiatore del tempo vi avesse descritto il presente, in cui il vostro capo è un algoritmo? E abbiamo coniato pure un nuovo termine. Dopo il fordismo oggi abbiamo il bezosismo. Un mix di sorveglianza, misurazione, trucchi psicologici, obiettivi, slogan di incentivi ed una gamma sempre crescente di tecnologie intelligenti per spremervi fino all'ultima goccia di produttività. Ma sentiamo il finale buono di questa conferenza. Riconoscere il diritto alla libertà cognitiva, ovvero il diritto all'autodeterminazione sul nostro cervello e sulle nostre esperienze mentali. Vorrei far notare che sono libertà che già abbiamo e le abbiamo sempre avute. La libertà e sovranità di cosa avviene dentro la nostra testa resterà nostra fino a quando queste tecnologie distopiche non verranno normalizzate. Questa discussione inizia solo se noi permettiamo che inizi. Questo futuro non è inevitabile. Non è un vaso di Pandora che dobbiamo per forza aprire. La domanda piuttosto è, sapremo noi porci dei limiti? Io penso che quando tecnologie come Neuralink saranno disponibili, le lit non avranno neanche bisogno di imporle. Tante persone correranno a farsele impiantare. Per quale motivo? Perché saranno desiderabili. Basta guardare gli effetti di internet oggi sulla popolazione e di come causa vere e proprie dipendenze. Dipendenza dai social, bisogno costante di intrattenimento, dipendenza dal porno. Un qualcosa che oggi si può consumare solo con gli occhi. L'unico input attuale è quello audiovisivo. Immaginate se in futuro gli impianti neurali permetteranno non solo più di vedere, ma di estendere l'esperienza virtuale anche ad altri sensi. Non più un qualcosa che puoi solo vedere, ma qualcosa che puoi sentire. Nel 1954, due neuropsicologi condussero una serie di esperimenti sui topi, impiantando nel loro cervello degli elettrodi direttamente nella sede centrale del circuito del piacere. I roditori potevano auto-neuro-stimolarsi premendo una leva. Gli scienziati osservarono che i ratte arrivarono a premere quella levetta per 7.000 volte all'ora e che non c'era nient'altro che li potesse interessare che stimolare il loro piacere. I topi cominciarono ad ignorare la fame, la sete e i bisogni primari. Gli esseri umani in cosa si trasformeranno? Star Trek, forse, l'aveva previsto. I Borg sono esseri umanoidi che includono nella propria anatomia componenti tecnologici che li rendono cibernetici, aumentando le loro capacità fisiche e mentali anche se, allo stesso tempo, l'assimilazione allo stato di Borg priva ogni nuovo drone della sua individualità. Trent'anni fa era pura fantascienza e chissà se lo sarà ancora per i prossimi trenta. Nita, tu che dici? Decodifica di pensieri complessi, neurodiritti sul lavoro, dipendenza da metaverso. Se questo è il futuro, datemi pure del complottista retrogrado, ma non compro niente. Grazie. Se in questo video ti ho fatto scoprire qualcosa che non conoscevi e pensi che il mio lavoro di informazione sia importante, oltre a commentare e condividere, puoi sostenermi concretamente andando su lucadonadel.it per darmi una mano a continuare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.